cari amici siamo arrivati all'ultimo angolino della nostra giornata a me come sempre il compito di consigliarvi le nostre ciliegine ovvero i programmi più interessanti di domani nella serata le 19 30 il nuovo poliziesco tj ucker un uomo che rischia la vita per amore della giustizia e della libertà e poi al termine continua la saga del padrino la versione inedita e integrale del film di francis fort coppola per quanto riguarda gli auguri domani la chiesa festeggia il padrono d'italia san francesco siccome sono tanti gli amici con questo nome a loro vanno i miei migliori auguri e tutti quelli dello staff di canale 5 e a questo punto cari amici visto che il nostro pubblico è ormai internazionale buonanotte buonui good night suzzi 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 Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti